Ben trovati al nostro speciale TGT dedicato all'attività del Consiglio regionale della Toscana. A centro dell'ultima seduta dell'aula di Palazzo del Pegaso il dibattito riguardante l'ipotesi di costruzione di una base militare dell'arma dei carabinieri all'interno del palco regionale di San Rossore nella zona di Coltano. Il Consiglio regionale chiede un ripensamento e l'individuazione di soluzioni alternative da negoziare con il governo e le autorità militari per impedire la realizzazione della base militare a Coltano. L'aula ha approvato tre mozioni, una del Partito Democratico, primo firmatario il capogruppo Vincenzo Ceccarelli, una di Italia Viva, primo firmatario il capogruppo Stefano Scaramelli, approvate entrambe a maggioranza, a favore Partito Democratico, Italia Viva e Movimento 5 Stelle, Contrari Lega, Fratelli d'Italia, astenuta la consigliera Elisa Tozzi del gruppo misto Toscana Domani e una presentata dal Movimento 5 Stelle, prima firmataria la capogruppo Irene Galletti, approvata dal Movimento 5 Stelle. Noi apprezziamo la presenza e l'impegno e il lavoro dei carabinieri in Toscana e nella realtà pisana. Riteniamo però in sintonia con tantissimi di quelli che si sono espressi che questo intervento per l'impatto che produce sul territorio non debba essere realizzato all'interno di un'area protetta e quindi chiediamo tutto l'impegno possibile al nostro Presidente e alle altre istituzioni affinché si adoperino in un confronto con le istituzioni governative per cercare di evitare che vengano occupati questi 73 ettari all'interno del Parco di San Rossore per questa realizzazione. Italia Vea per prima si è pronunciata contro la realizzazione di questo intervento nel merito alla localizzazione e all'utilizzo dei fondi del PNRR. Non è sbagliato di per sé migliorare il posizionamento dei carabinieri, fare un intervento importante, ma bisogna decidere dove farlo, come farlo. Passare da 53 mila metri quadrati a 730 mila metri quadrati in un parco come quello di San Rossore è una speculazione edilizia pubblica in un ambiente che deve essere tutelato, promosso e qualificato. Si può condividere dove fare questo intervento, meglio se farlo dove ci sono degli opifici dismessi che possono essere recuperati o dove ci sono dei locali abbandonati, ma sicuramente non in un parco regionale che è famoso nel mondo per il proprio pregio di carattere ambientale. Quindi siamo contrari, bene l'approvazione del nostro atto per dare forza al Presidente Gianni per contrastare questo intervento. Questo progetto è apparso immediatamente irragionevole per i volumi e per come è dislocato. Qualcuno parla infatti in aula di un'area marginale del parco, ma si tratta in realtà di un'area vocata a agricoltura biologica e soprattutto un importante cuscinetto tra il tessuto sociale ed economico del territorio e il parco, il parco regionale. Il fatto che questa proposta sia stata calata in maniera così improvvisa dall'alto non è piaciuto sicuramente agli abitanti e neanche alle istituzioni e la Regione Toscana ha fatto bene a cercare una soluzione alternativa, anche perché si andrebbe a parlare di 73 ettari di terreno vergine ad alto valore ambientale a fronte di quello che dovrebbe essere il gancio evocato, quindi la bonifica di 5 ettari anche meno di un'ex stazione radar. Quindi l'irragionevolezza anche a fronte dei molti immobili, dei molti edifici abbandonati nei dintorni è evidente. Il Comune di Pisa deve essere coinvolto e deve essere centrale nella discussione, tant'è che apprezziamo il fatto che stamani mattina il Sindaco di Pisa, accompagnato anche dall'assessore all'urbanistica e dal Presidente della Prima Commissione, siano al tavolo dove si discute di questo intervento, insieme alla Regione, insieme all'arma dei carabinieri. Quindi è un passaggio che riteniamo essere obbligato, ancorché opportuno. Dopodiché pensiamo che, proprio coinvolgendo il Comune di Pisa, il Sindaco sarà in grado di individuare una proposta che possa tener conto di due interessi principali. Uno, quello di salvaguardare l'ambiente e un intervento che possa essere in qualche modo troppo invasivo in un'area importante come l'area di Coltano. Dall'altra parte però salvaguardare il fatto che il Comune di Pisa possa ospitare un centro di eccellenza dove saranno, appunto, convogliati tre reparti di eccellenza fondamentali che sono un orgoglio nazionale, quale il Tuscania, quale il GIS e quale il reparto dei carabinieri cenofili a cavallo. Quindi siamo felicissimi che questi tre importanti reparti possono essere stanziati a Pisa, che daranno ulteriore, appunto, motivo di orgoglio alla nostra città, con un intervento che deve sicuramente essere in qualche modo rivisto, in qualche modo riallocato o contenuto rispetto al progetto iniziale. Altra questione d'attualità affrontata dai consiglieri, quella del rigassificatore che dovrebbe sorgere a Piombino. Il condizionale ovviamente è d'obbligo, questa l'opinione dell'Aula. Battaglia tra maggioranza e opposizione in Consiglio regionale sulla questione rigassificatore. Il consigliere regionale della Lega e portavoce dell'opposizione Marco Landi ha chiesto in regione chiarimenti in merito all'ipotesi di posizionare un rigassificatore nel porto di Piombino e alle voci che si rincorrono per la nomina del Presidente Gianni, Commissario per l'Opera. Sì, oggi l'assessore Moni non si è presentata in Aula e non è purtroppo la prima volta a rispondere al question time del portavoce dell'opposizione. È un fatto assolutamente grave, anche visto il tema di estrema attualità, che è quello del rigassificatore della nave che si prevede di portare al porto di Piombino. È intervenuto stamani il Presidente Gianni sulla stampa in virtù della possibilità di un decreto governativo che lo vedrebbe come commissario dell'opera. Noi nell'interrogazione abbiamo chiesto quale fosse lo stato dell'arte e dell'opera e soprattutto vorremmo che ci fosse maggiore chiarezza e un intervento incisivo da parte della Giunta regionale per far sì che anche i cittadini siano doverosamente informati. È una questione che preoccupa il territorio anche per l'impatto che potrebbe dare questa nave gasiera all'interno del porto di Piombino con tutte le sue complicazioni. Abbiamo chiesto anche quali potrebbero essere eventualmente le compensazioni che verrebbero date al territorio e alla città ma soprattutto dobbiamo capire se questo intervento è ecosostenibile rispetto a quelle che sono le dinamiche portuali e della città. Oggi il Presidente Gianni è intervenuto in aula, ci ha detto che lui al momento non è a conoscenza del fatto dello stato dell'opera e noi di questo siamo fortemente preoccupati e chiediamo maggiore incisività ma soprattutto chiediamo che ci sia rispetto per quanto riguarda l'azione che svolgiamo come consiglieri regionali all'interno dell'assise del Consiglio regionale e che la Giunta regionale e l'assessore Monni vengano a rispondere in aula. L'assessore all'ambiente Monia Monni che non ha risposto in aula al question time del portavoce dell'opposizione ha poi spiegato che per la complessità della vicenda sono toccati molteplici temi alcuni dei quali investono competenze diverse da quelle attribuitele. La vicenda è dunque presidiata dal Presidente della Regione Eugenio Gianni che tuttavia in aula ha dichiarato di non avere informazioni in merito. Il Governo più che diciamo un incarico ad hoc in questo caso alla mia persona sta pensando è un decreto legge che circola alle figure dei Presidenti delle Regioni laddove viene scelto di posizionare le due navi rigassificatrici che sono state acquistate dallo Stato. Piombino è inutile negarlo è una delle più probabili. Naturalmente noi abbiamo fatto fare tutto il lavoro diciamo di verifica di quello che erano le compatibilità con il porto. Un porto realizzato dalla Regione Toscana doveva vi ricordate essere il porto dove si smontava la Costa Concordia poi la Costa Concordia fu smontata altrove però lì ci troviamo ora un porto molto importante con 20 metri di pescaggio con una possibilità di essere punto riferimento logistico per tutto il centro Italia e la richiesta da parte di SNAM è quello di utilizzarlo per un anno e mezzo poi sarà pronta quella che è la piattaforma offshore per la rigassificazione che può consentire lo sviluppo diciamo di questa attività così importante però è evidente che non c'è solo da prevedere la rigassificazione se lì il governo decide che deve andare la nave bisogna che si faccia carico anche di tutta un'altra serie di operazioni le bonifiche in quei luoghi che sono particolarmente importanti per la popolazione la nuova strada la 398 che deve collegare direttamente dalla strada di grande comunicazione detta Aurelia alla realtà di Piombino senza dover passare dal centro ma invece mantenendo il flusso di traffico sull'esterno le stesse operazioni per installare quelle condizioni con un forno elettrico che perché la siderurgia possa ripartire ecco che sono compiti che richiedono una sorta di intesa per Piombino e io sono convinto che questo ruolo può essere esercitato dagli enti locali nel complesso dalla regione se sarò per questo meccanismo dei presidenti di regione individuati come commissari cercherò proprio di portare avanti questa impostazione. Non solo crisi energetica ma anche la conseguenza della guerra tra Russia e Ucraina al centro delle preoccupazioni dei consiglieri regionali che hanno voluto dedicare un focus alle conseguenze del conflitto. Monitoraggio periodico dell'economia regionale una task force dedicata strategie per l'occupazione l'efficientamento energetico l'agricoltura e per il sostegno ai più colpiti è questa in sintesi la ricetta proposta dal consiglio regionale per fronteggiare le conseguenze del conflitto russo-ucraino per la Toscana. L'aula ha approvato con voto favorevole all'unanimità una mozione in materia presentata da Elisa Tozzi del gruppo misto Toscana Domani e Anna Paris del partito democratico. La mozione impegna la giunta a fornire al consiglio in tempi rapide con cadenza periodica un'informativa esaustiva e dettagliata anche sulla base delle ricerche di IRPET sull'attuale stato dell'economia toscana e sull'impatto che si presume il conflitto internazionale possa avere sul tessuto produttivo toscano. Noi chiediamo però che ci siano anche delle azioni forti di sostegno prima di tutto al settore delle filiere agroalimentari che naturalmente in questo periodo stanno soffrendo pensiamo tutti quanti alla vicenda degli allevatori e delle quote latte. C'è una questione centrale che è l'autosufficienza energetica il rapporto IRPET parla chiaro regione toscana ha un 25 per cento di autosufficienza energetica quindi anche sotto questo aspetto sia a livello nazionale ma anche regionale tanto si può fare penso alla geotermia ma penso anche alle misure sull'agrifotovoltaico che sicuramente possono favorire a livello anche del settore agricolo ma diciamo l'autosufficienza. Nonostante tutti questi importanti provvedimenti del governo chiediamo qualche cosa in più alla nostra giunta, alla nostra regione e non si possono ne condividere e gli interventi più importanti è di prendere atto del grande lavoro che fa IRPET Toscana e abbiamo sentito il seminario che è stato proposto il convegno il 28 di aprile che ci propone una fotografia attuale della situazione quindi sulla base di questo continuo lavoro chiediamo alla giunta di lo farà sempre però più che mai considerare anche perché là ci sono anche i numeri del numero delle aziende in crisi nei vari settori. Anche Francesco Torselli capogruppo di Fratelli d'Italia ha posto l'accento sulla necessità di rinegoziare in Europa il PNRR perché era uno strumento pensato prima dello scoppio della guerra ha inoltre invitato a realizzare le opere che hanno effettivamente un valore ricordando che se c'è una diminuzione del 30 per cento ci sarà un calo del 30 per cento anche dell'occupazione. L'autosufficienza energetica, la tutela della filiera agroalimentare, le energie rinnovabili, l'utilizzo delle energie rinnovabili in Toscana tutto molto bello e tutto molto utile. Noi abbiamo chiesto soltanto una cosa di inserire due righe che trasformassero questo bellissimo, l'ennesimo bellissimo libro dei sogni in qualcosa di attuale perché tutto questo è attuabile. La difesa della filiera corta dell'agroalimentare toscano, il raggiungimento dell'autonomia energetica, tutto è raggiungibile se e solo se l'Italia insieme agli altri paesi europei perché il tema riguarda tutti riescono a ricontrattare il PNRR perché o nel PNRR si riesce a inserire anche per esempio il tema dell'autosufficienza energetica oppure questo resta un libro dei sogni. Dobbiamo fare molta attenzione alle speculazioni sicuramente specialmente nel campo dell'energia e delle materie prime e bisogna cercare di capire come recuperare la nostra indipendenza per i prodotti, per i servizi, per le materie compresa l'energia che ci servono di più nell'ottica non soltanto di questo attuale conflitto ma anche nell'ottica della maggiore prossimità dell'approvvigionamento delle risorse che è uno dei pilastri che è previsto anche dall'Unione Europea per il prossimo settennato. Ed è tutto anche per questa edizione del nostro speciale TGT. L'informazione ritorna come sempre la prossima settimana. Grazie. 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 Grazie.